Assessore, da tempo è stato avviato un progetto con l'Università di Berlino che coinvolge direttamente la città di Gela. L'Università Tecnica di Berlino attraverso gli studenti delle varie facoltà stanno studiando il territorio di Gela nell'ottica di individuare dei progetti esecutivi. Si trattano di progetti che hanno a che fare con la reindustrializzazione, con il settore agricolo, con il problema delle bonifiche, con il problema dell'urbanizzazione, della viabilità, quindi tutti i temi che interessano questa città. Temi che tra l'altro fanno parte della logica dell'amministrazione per lo sviluppo delle smart city, però è chiaro che il passo principale deve essere quello di avere la consapevolezza di percorrere un processo di cambiamento così disruptive, si dice in termini tecnico, cioè distruttivo nel senso di radicale cambiamento della città. Ci saranno degli incontri volti a valutare i risultati di questi studi, di questi progetti nel medio termine e per finire poi il lavoro entro febbraio con dei progetti esecutivi che verranno portati dalla città in tutte le sue sfaccettature. Assessore, quali possono essere le ricadute positive di un progetto così innovativo in città? Cioè bisognerà anche calarlo nella realtà gelese? La peculiarità di questo progetto sta nel fatto che tutte le attività sono state svolte prevalentemente in città. Ecco, i 34 studenti di università, i 34 tecnici sono venuti a Gela, sono rimasti qui dieci giorni dopo aver fatto gli studi preliminari per verificare con la città, quindi con dei confronti diretti con tutti gli stakeholder, cioè con tutti quelli che sono portatori di interesse nel miglioramento della città, quindi imprese, agricoltori, cittadini, le istituzioni, volte a verificare l'applicabilità di queste soluzioni. Per trovare una soluzione alternativa a quello che è stata l'industrializzazione petrolifera del territorio. Quindi la volontà è quella di cambiare il volto della città, partendo dalle attività imprenditoriali, partendo dal cambiamento del volto di queste città, per ripristinare, o meglio, per rimuovere quel debito di immagine che la città ha nei confronti dell'intera Europa. I suoi obiettivi sono davvero ambiziosi e assolutamente condivisibili, perché cambierebbero definitivamente le sorti e il destino di questa città. Ma lei, da amministratore comunque di questa città, quanto ritiene che sia possibile realizzare di tutti questi progetti così ambiziosi? Allora, sono molto confidente e fiducioso del fatto della loro realizzabilità, perché sono dei progetti, diciamo, esecutivi, cioè dei progetti basati sulle necessità del territorio. Ecco, non è un'estrapolazione di una realtà vissuta in un'altra città, poi calata sul territorio girese. Si tratta invece di progetti studiati sul territorio, a vantaggio del territorio, sulle necessità del territorio. Finanziati come, Assessore? Allora, i finanziamenti possono avvenire, in parte, tramite i famosi oneri di compensazione che l'Eni deve al territorio, ecco, per le attività autorizzative che ci sono in Etirano, comunque che sono state espletate. A parte, verranno finanziate la comunità europea, perché comunque sono dei progetti a Valenza europea che riguardano appunto le smart cities, quindi l'efficientamento energetico.